Innanzitutto vi ringrazio dell'opportunità, dell'invito, l'occasione che ci date per parlare del lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni complicatissimi, che sembrano più del doppio, insomma, viste le condizioni in cui ci siamo trovati a lavorare e ci dà anche l'occasione di parlare della nostra città, parlare di Orvieto e quindi in premessa, nella premessa delle premesse, l'invito a venirci a trovare e non solo a vedere quello che stiamo facendo, ma insomma a visitare la nostra città. Ringrazio anche il GAL Trasimeno Orvietano che ha creato questo importante contatto. Noi col GAL collaboriamo moltissimo sul fronte della promozione della città e sapevo che ci doveva essere ospite anche che è la direttrice del GAL, Francesca Cavroni, il presidente Gianni Moscetti, insomma, con cui collaboriamo. Come dicevi un po' anche all'inizio, c'è un po' di difficoltà a far capire quello che fanno i GAL. Noi in realtà da tre anni a questa parte, grazie anche a questa collaborazione molto stretta, abbiamo messo in luce le potenzialità del GAL. Ancora ci sorprendiamo che la gente quando parliamo del GAL ci chiede che cosa sono i GAL, perché non c'è ancora consapevolezza di che cosa sono i GAL e di quello che possono fare per la promozione del territorio. E almeno nel nostro caso fanno tanto, non solo in termini di risorse che vengono messe a disposizione, ma di coprogettazione per quanto riguarda la promozione del territorio. Io ecco, avevo passato a Cristiano delle slide che avevamo fatto in un'occasione del Tourism Summit di Rimini, dove siamo stati chiamati a raccontare la nostra esperienza per quanto riguarda l'innovazione dei prodotti turistici. Noi praticamente siamo partiti tre anni fa dall'anno zero, dall'anno zero perché eravamo in condizioni quasi di pre-storia. Cioè noi abbiamo un prodotto, ad esempio la carta unica che racchiude tutti quanti, la chiave di accesso alla città di tutti quanti i monumenti della città, che veniva praticamente obliterata come venivano obliterati i biglietti dell'autobus negli anni Ottanta. Quindi quello era il punto di partenza, non c'era nessun monumento, museo acquistabile, prenotabile online. E tutti i vari strumenti, tutti i vari servizi, insomma, erano un po' all'anno zero. Quindi ci siamo trovati nel momento in cui è scoppiata la pandemia a avere sia un problema, ovviamente la pandemia, ma sia una grossa opportunità, cioè quella di rimetterci un po' al passo con i tempi e al passo con altre realtà più avanzate di noi. Ora, nella nostra condizione, purtroppo in Italia, insomma, ci sono tante, in realtà ci sono tanti comuni. Quindi anche questa giornata, questa opportunità di confronto che abbiamo è per scambiare queste esperienze sapendo che questi modelli che vengono proposti dalle amministrazioni locali sono poi modelli comunque replicabili. E la tecnologia, in questo senso, ci aiuta. Ma come diciamo spesso fra di noi quando cominciamo con i vari progetti che hanno a che fare con l'utilizzo della tecnologia, ormai non si inventa più niente. E' come sono i contenuti che vengono messi dentro alle tecnologie, come si utilizzano alcuni strumenti, come si raccontano, che fa la differenza e quindi che poi dà l'unicità di un territorio e riconduce a delle esperienze. Quindi noi siamo partiti, come vi dicevo, dall'anno zero. Ci siamo trovati nel momento in cui, se vi ricordate, all'inizio della pandemia addirittura si segnalava l'obbligo della prenotazione e della vendita online dei monumenti per garantire le visite in sicurezza di tutti quanti i beni artistici. Quindi noi ci siamo trovati subito a dare una prima risposta rinnovando il portale turistico della città, integrandolo con una piattaforma di prenotazione e vendita online per dare la prima risposta all'emergenza e quindi rendere accessibile online il Pozzo di San Patrizio, il Duomo e gli altri monumenti della città. Abbiamo avviato un processo di digitalizzazione di carta unica, che come vi dicevo, insomma, era un biglietto che veniva obliterato. Quindi noi non avevamo nemmeno, però chiudendo nove siti, noi non avevamo nemmeno delle informazioni rispetto ai turisti che venivano, quali siti visitavano, qual era il loro percorso all'interno della città, quali erano i siti più visitati, quelli meno, quindi perché, per capire queste cose. Oggi abbiamo rinnovato, fatto un'operazione di rebranding di carta unica. Abbiamo digitalizzato la vendita di carta unica acquistabile e prenotabile online e abbiamo tutta una serie di dati, attraverso ovviamente questo biglietto elettronico, abbiamo tutta una serie di dati su come si spostano le turistiche all'interno della città. Abbiamo fatto poi un'altra operazione che riguarda la segnaletica turistica pedonale. Abbiamo trovato una segnaletica turistica pedonale che era nuova, che era stata fatta da poco dalla precedente amministrazione, ma che in realtà era già vecchia e visto che le tecnologie, come dicevamo prima, ci mettono a disposizione, ci hanno l'opportunità di ampliare i contenuti che sarebbero quelli normali di un cartello. Quindi abbiamo rinnovato completamente la segnaletica pedonale, recuperando quella che c'era prima, quindi facendo una operazione di rebranding della segnaletica esistente, integrandola con un QR code che rimanda a tutta una serie di informazioni, a un'app che rimanda a tutta una serie di informazioni, quindi foto, videogalleri, informazioni ovviamente in italiano, inglese e nella lingua dei segni su tutti i monumenti della città e sugli itinerari della città, informazioni su dove mangiare, dove dormire, addirittura è stata caricata una libreria digitale gratuita dove ci sono a disposizione degli e-book scaricabili gratuitamente, sono 20-25 titoli, insomma grandi classici della letteratura che però possono essere scaricati gratuitamente dagli utenti. E poi la nostra segnaletica ha un'altra particolarità, nel senso che sui segnali, che vengono circa 60 segnali che sono distribuiti in città, c'è una nostra mascotte che si chiama Anna, in onore di Anna Marchesini e che vuole fare la giornalista grande come Luigi Barzini, che è stato il primo inviato speciale della storia, entrambi orvietani, entrambi di origine orvietana, che racconta la città ai più piccoli, con un linguaggio più family friendly e che inquadrata con lo smartphone, è una mascotte in realtà aumentata, come si anima e parla con i bambini, insomma con chi fluisce di questa cosa e racconta la città, ci sono cinque animazioni e racconta la città con cinque storie diverse sui vari ambiti della città. Quello che può sembrare tutto quasi normale, tra virgolette, o scontato, scontato non è perché comunque questa segnaletica ha già dato la possibilità innanzitutto di recuperare quella esistente, quindi non fare economia e non spendere nuovamente altri soldi. È accessibile a un pubblico variegato di turisti, perché come abbiamo detto, le famiglie, ma anche con la lingua dei segni, insomma è accessibile per chi ha queste difficoltà e poi soprattutto ci consente di raccogliere una serie di dati molto importanti anche in questo caso, perché noi essendo un'applicazione che funziona come un sito web, ci restituisce degli analytics per cui noi abbiamo in tempo reale chi sta osservando in quel momento la nostra segnaletica, chi è in città, da dove proviene, quali sono le attrazioni che prediligie e quindi capire come vivono i turisti, la loro esperienza. E questo ci consente di raccogliere tutti i dati che poi a noi servono per orientare una serie di scelte a partire dalla promozione, a partire dalla comunicazione, dove andare a verificare la possibilità di raccogliere nuovi turisti e quindi orientare le nostre scelte in termini di comunicazione. Tutto questo poi è stato accompagnato anche da una campagna di comunicazione e di promozione, di cui il contributo importante è arrivato dal GAL che in questi tre anni ci ha portato, non sono nelle principali piazze italiane a promuovere la nostra città, con scelte derivanti proprio da questa raccolta di dati che noi abbiamo fatto, quindi anche a livello geografico, capire quale città magari potevano essere interessate, quali aree geografiche potevano essere interessate alla nostra città. E poi ci ha portato ovviamente nel corso degli ultimi due anni siamo stati praticamente su tutte le televisioni nazionali ed estere, insomma dalla RAI fino ad arrivare alla SET, la CNN, eccetera. Tutti i giornali nazionali, tutti i giornali nazionali, hanno parlato di Orvieto, delle esperienze che si possono fare a Orvieto, di queste innovazioni che sono state apportate riguardo ai prodotti turistici che, ripeto, non abbiamo inventato niente, ma abbiamo cercato di utilizzarle al meglio per raccontare la città in maniera diversa, allargando la platea dei turisti e degli interessati alla nostra città. Un lavoro che gioca molto sul virtuale, sulla tecnologia, eccetera, ma che poi ha avuto anche dei riscontri positivi in termini di presenze sulla città. Noi abbiamo avuto nell'estate del 2021, rispetto all'estate 2019, rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi pre-covid, circa il 40% in più degli ingressi al Pozzo di San Patrizio. Abbiamo avuto nel periodo dal giugno-ottobre 2021 tra il 40% e il 60% di arrivi e presenze in più rispetto sempre al 2019. Parliamo di presenze di turisti italiani, perché ovviamente, come sappiamo, in questa fase i principali movimenti, i principali flussi, sono arrivati dall'Italia. Ora stanno tornando, ora stanno tornando. Tutto il lavoro che è stato fatto, che ha coinvolto anche molto il web, quindi le campagne di promozione che abbiamo fatto, sia quella post-lockdown, sia quella che adesso è in corso e che ovviamente mira a promuovere, anche in collaborazione con il Galtrasimano Orvietano, il nostro territorio attraverso gli eventi, perché ora c'è la possibilità, ovviamente, viva Dio, siamo tornati a vivere nelle nostre città, quindi promuoviamo la città attraverso gli eventi. Tutta questa politica, tutti questi interventi, sia dal punto di vista strutturale, tra virgolette, che di comunicazione e di promozione, hanno portato dei risultati concreti. Dicevo gli ingressi al Pozzo di San Patrizio, dicevo gli aumenti di presenze italiane, tra il 40% e il 60% della scorsa estate, insomma tra giugno e ottobre, quindi è un lavoro che alla fine premia e alla fine dà risultati anche concreti che si possono toccare.